Ciao a tutti raga, sono Serge Adrian e oggi ho qualcosa di particolare, ovvero Call of Duty Advanced Warfare. Allora, partiremo dalla missione 1, appunto, e niente, ho già registrato la missione 4 con l'altro utente perché volevo portarvi quella, poi ci ho ripensato, no, ci sto un po' di più, però ve lo porto completo. Questo intro l'avrò visto non so quante volte e veramente mi ha... mi è venuto annoia. Sto cercando di tenere il microfono più vicino possibile alla bocca perché ho volme la tv molto alto. Non ho ancora capito, in effetti. Chi è che è il personaggio? Cioè, nel senso, la faccia del personaggio. Questo nero è un mito. Cioè, ha la faccia da Less Gold, praticamente. Questa missione ormai l'ho fatta, rifatta e rigiocata, quindi... Scusate. Conosco bene com'è. E spero di passarla senza morire mai. Cosa che è molto dura, però secondo me si può fare. E niente, adesso c'è la famosa dirottazione, si può chiamare. I dati assalto, ok? Sì, ecco, questo punto vuoi fare. Reggetevi! Ecco, questo qui. Ok. Tenetevi forte! Tenetevi forte! Si parte! Si parte! Come in addestramento. Come in addestramento. 30 secondi all'inserimento. Come sono profedato. Vi vediamo dall'altra parte. Paceman! Uoco nemico nella nostra traiettoria. Recebuto, Major 01. In attrazione in corso. Metemi! Ecco, non me la leggete, me la tenete. Mitchell! Chiudi gli scudi! Tiriamo la leva, tiriamo la leva, tiriamo la leva, tiriamo la leva! Tiriamo la leva, su dai! Reimposto il punto di lancio! Reimposto il punto di lancio! Reggetevi! 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 Ecco l'ho. Troppo bello. that here? Seandi! Dai su, rimboccamosi la fava! Siamo di te! Si, siamo tutti i tè! Anche siamo tutti in te. Si, stiamo tutti i tè. Sao! Sganciamoci Sganciamoci Apriamo la porta Con R3 Ho aperto più volte questa porta Che qui che è quella di casa mia Perché una volta non mi si è salvato Il sabotaggio Vabbè brutto Brutto da dire Vabbè lanciamoci Ecco coglione Che non sei altro Scusate di nuovo Dai soltanto ormai non so dove c'è di andare Ora morire subito o no Punti ad attivare i booster Attenzione Brevi accensioni per controllare la caduta Punti Questi sono con noi Questo video non ho messo la mia faccia Nel alto A destra A sinistra insomma Perché con Call of Duty Secondo me avrebbe solo disturbato E quindi non l'ho messo Avrò non c'è di andare di qua Ciao Whitefield Come sei grosso Ok andiamo Ecco Ricevuto Occhio partigente È vero Il gattino che è passato L'obiettivo è Non morire Poi Speriamo sia così Uno che mi sta impalinando Da qualche parte L'ha già ammazzato qualcuno Grazie A volte gli alleati Possono servire a qualcosa Ok adesso Arriva la parte più bella Quella che proprio Mi piace di più Qualcuno va dalla torretta Qualcuno va dalla torretta Manda via quei droni Le MP ci mette un po' a caricare Magari tu li cogliessi Magari Spara i droni Le MP al 50% Toccando come mosche Guardate lì EMP carica Fuoco Stiamo su Stiamo su Ops Non esiste più Ci andare nell'hotel Ok Ricordo Vieni Ok Via la granata Intelligente In realtà qua tutto stupido Come una merda Però va bene Prima Oh no Secondo me Bocami Allora Ops Magari Tu lo cogliessi Adrien Ops Ah non mi viene davanti Mentre davanti Mentre sto sparando No Ops Tu sei con me Bravo Vedi che Un po' imparate Dobbiamo arrivare di là Dobbiamo arrivare di là Pronti con i booster Uh per nulla Per nulla Per nulla Questa volta si fa sul serve Non è invece La giù Muoversi Laggiù Muoversi Ecco il bersaglio Ecco il bersaglio Troviamo quella squadra Hanno devastato la strada Ok C'è da scendere qua sotto Da quel che mi ricordo Dobbiamo girare quel crotere Per arrivare al distretto commerciale Squadra demolizioni uno Qui badger zero uno Ci siete Passo E di qua Dai su Correte però eh Andale 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 Dove droni? Brutta parola della parola droni Ah tutto lì tutto lì tutto concentrato in uno Capito Uh che colpo Tanto chi c'è sempre a penderli Capisco perché c'è Quando ricaricano Cioè devono ricaricare ogni 3x2 Una cosa veramente non capisco Non neanche sopporto Sì però rientra Andata bene Eeeh Colpone Andiamo su per le scale mobili Dai non c'è nessuno su Andiamo Si aprono per noi Andiamo ad andare qua e aprire questo Non sparare alleati Spero solo non si blocchi in un punto Che mi si era buggato Una volta Un colpo così silenzioso Che non da noi a nessuno Perché ammazzo la gente già morta? Che senso Però questo Mi dovete Dovete venire a casa mia qui Cioè nel senso Ops e qua le prendo Qua le prendo Qua le prendo Qua non le prendo Potevo anche rimanere lì Dai su che è finito il tempo Su T'hanno ammazzato Speriamo non mi si interrompa la registrazione a 15 minuti Perché è nell'utente con cui sto giocando Non l'ho fatto Attenzione Ok 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 No ma è così difficile Ma alla finestra dove? Che registrazione Dove deve essere fermata Aiuto Come ho fatto Come ho fatto Non lo so Non ne ho idea Eh piangi pure se bersaglio a terra Benino l'acquario Ma non escono i pesci no Dobbiamo trovare la squadra demolizioni Dobbiamo trovare la squadra demolizioni Mitchell Di qui Ecco il lancelosi Ecco il lancelosi La squadra Bellini questi apparecchi Eccola Sono nati Ingegnosi nel futuro Sono morti Ok Vedo i loro ok Vedo i loro esplosivi Possiamo farcela Non siamo una squadra demolizioni Non so Mentre ne aspettiamo un'altra Che praticamente C'è l'ammazzare Quelli lassù Sulla Finestra Ok C'è a 1 E ricarica Non ho capito dove stanno sparando Ok Tu laggiù Non ho capito dove stanno no non l'ho preso non l'ho preso non l'ho preso ora l'ho preso oh questo è quello che volevo andiamo avanti ma l'ho preso ah no non l'ho preso si ho capito ma ci devono stare anche io qua sotto ehi che è ci attaccano riposizionamento no non voglio morire è quasi finita ah è fuori uno maledetto rinculo ah che miraccia oh let's go baby oh merda ok grazie cioè praticamente ammazza tutti lui ed ecco che qua si spoiler si perderà un braccio addio amico tu morirai tu morirai merda non pensare al timer di nuovo tira decolliamo decolliamo devi scendere subito non c'è più tempo non c'è più tempo devi saltare ora tutto ok ci vediamo dall'altra parte raga e così si chiude la missione 1 in cui vedete si perde un braccio si chiude così tristemente la missione 1 ed ecco lì che lascia un braccio a seul in corea allora qua avete punto esperienza svilupperò la resistenza perché quello che cosa principale di questo gioco io vi ringrazio per la visione è data un pochino sta missione non sono mai morto l'obiettivo è stato raggiunto allora noi ci si vede alla prossima ora vedo se tornare con fifa o con call of duty fatelo magari sapere anche voi ciao a tutti alla prossima